ben ritrovati a questa nuova puntata del salotto alle 8 oggi ospite in studio io me stesso ciao ma gli occhiali e mi dà fastidio la luce che poi quest'attrezzatura del 16 18 sono io sono il tuo personaggio innanzitutto poi i video li fai tu li monti tu che tra l'altro hai pure il coraggio di fare le inquadrature di primo piano tutto sfocato ma è coraggioso si è comprimente come come stai come come sto sinceramente ultimamente nella mia mente problemi di identità non so più chi sono ma lei cioè io cioè tu lavori ora sull'artigianato dei piccoli problemi che non mi permettono di fare molto altro ho un'ernia varicocele che cos'è il varicocele di palle discopatia 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 la forti digerito artica mi piace ci ritengono discopatia benvenuti che poi artigiani in corsa non ho capito esattamente artigiano artigiano lavoro il gesso lavoro il gesso crea oggetti da rite orologi lampade a propos posso fare la pubblicità ma è dalla pubblicità ma vi l'artigiano su facebook ma sono belle cose miei ok pure io devo mangiare ti piace il calcio dipende nei denti nel sedere il calcio lo sport o no perché hai dichiarato che cristiano ronaldo è più forte di messi per messi cristiano ronaldo o messi cristiano ronaldo per messi ma messi o cristiano ronaldo per messi se vuoi per messi per andare a fa vai vai ciao ciao ma perché l'abbiamo ripreso sta trasmissione perché ciao ciao Grazie.